A Palazzo d'Orleans, il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, ha incontrato una delegazione di dirigenti di Sharp, Enel ed ST Microelectronics, aziende impegnate nel progetto per la realizzazione, a Catania, di uno stabilimento per la produzione di pannelli fotovoltaici, il più grande d'Europa. Il progetto per la capacità produttiva iniziale di 160 MW richiederà un investimento totale di 320 milioni di euro e sarà finanziato mediante una combinazione di capitale proprio, incentivi statali e project financing. Ogni partner sottoscriverà un terzo del capitale, 70 milioni di euro ciascuno, altri 70 milioni saranno erogati direttamente dal Ministero allo sviluppo economico. La produzione della fabbrica catanese sarà destinata a soddisfare i mercati del solare della cosiddetta regione EMEA, Europa, Medio Oriente ed Africa.